la mattina che è la televisione che io compro io vedi è il ragazzetto mamma mia signora buongiorno vieni questo è il giornalismo grazie è la mattina che siamo più freschi è la sera che ci allargiamo grazie ragazzi prego chi è che la fai? vai vai mettiamoci pure e vieni posso fare una foto? vai la fa lui e poi te la gira grazie è il nostro cavo gruppo a comuna tieni questo è il giornale nostro ascolta c'è albico c'è ad abusivismo nei mercati mi sembrava essere veramente ordinato grazie amico non piove 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 tutti stanno lì in essere della comunità e quindi cosa chiamiamo filmati? Libra ecco sapevo che cartellone sapevo che ti riferivi a all'amico do do giro si vede che sei inambulante dai non così siamo terra a terra vai che sei inambulante siamo questi tutti i quartieri tutti i rovinati stanno va bene ok le foto me le faccio almeno cambia slogan fenomeno è fantasia si fa sto fuori il monotematico buongiorno buongiorno grazie sono martedì in Calabria Brotomi Cassano e Rossano la gente che capire prego signora buongiorno buongiorno a lei signora prego grazie posso? augure grazie adesso questi mi fai qua di chiedere e fatti la foto con lui vieni qua va al giro vai vai va al giro salvisi vieni qua te lo porto dentro vieni qua con me vai vieni qua vieni qua aspetta 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 mi avendo aspetta 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 come andando aspetta aspettate aspetta sono contenta di lei grazie grazie buongiorno buon lavoro buongiorno buon lavoro buongiorno buongiorno